Un violino per il piccolo Ciro Esposito, nipote del giovane Ciro che nel 2014 perse la vita in occasione della partita Roma-Napoli, è stato donato questa mattina dalla Fondazione Cusani Ollus alla famiglia a pochi giorni dalla nascita. Un gesto simbolico nell'ambito di un progetto che vede la musica strumento contro la violenza ed opportunità per i giovani che vivono nei quartieri più difficili. L'iniziativa si intitola La musica a Vascuola e da settembre scorso coinvolge circa 1300 bambini dai 3 ai 13 anni dell'Istituto Comprensivo e l'area Alpi di Scampia in attività di formazione musicale. Abbiamo pensato di donargli questo piccolissimo violino che è quello con cui i bambini a tre anni cominciano a suonare proprio perché la musica è un simbolo di armonia, di pace e quindi ci auguriamo che questo giovane Ciro Esposito possa portare questo messaggio a tutti i giovani. Siamo molto contenti come amministrazione che questo progetto unisca anche un momento di memoria perché la dedica a Ciro Esposito, un ragazzo del quartiere che era all'unno di quella scuola, consente anche di mettere insieme musica e memoria. Non dimenticare la violenza del passato è un modo buono perché essa non si riproponga in futuro. Da dieci anni la Fondazione Gabriele Lidia Cusani Ollus opera nelle scuole della capitale con progetti socioeducativi ispirati al modello venezuelano. L'insegnamento musicale viene utilizzato per allontanare dai pericoli di violenza e disagio i giovani di periferia. A Napoli la Fondazione è in contatto con diversi istituti musicali a cui offrirà sostegno mettendo a disposizione strumenti orchestrali e la collaborazione di diversi musicisti. La musica è un grande veicolo di crescita, di formazione e soprattutto di solidarietà e di inclusione e quindi abbiamo avuto risultati straordinari a Roma in questi dieci anni ma soprattutto noi abbiamo portato in Italia dieci anni fa il sistema breu, quello venezuelano, che è nato 40 anni fa e ha ottenuto risultati strabilianti in tutto il mondo, infatti sono 44 i paesi nel mondo che lo hanno adottato e noi in Italia l'abbiamo divulgato insieme ad altre organizzazioni e associazioni che operano in tutto il territorio. Quindi un progetto importante per la solidarietà, per l'inclusione e per i valori sociali perché possa questo diventare una prevenzione, evitare che i giovani poi compiano errori, delitti che danneggiano loro e danneggiano la società. Grazie. Grazie. Grazie.